Visto come è andata alla fine, dopo l'espulsione di Lobosco è normale che sia avuto un po' di no, perché avevamo anche dei ragazzi che hanno accusato anche noi con Crampi e quant'altro. No, sono stati tre giocatori ammoniti, Crampi e quant'altro, in quel momento della partita subentra anche la paura di perderla. E quella parata di Sabri è stata la dimostrazione che in quel momento magari, diciamo, con l'unico dire importante si poteva rischiare di perdere la partita. Come hai detto te bene, l'approccio è stato buono. La partita abbiamo cercato di farla subito, siamo entrati bene. Non siamo stati cinici su alcune situazioni dove potevamo sfruttare bene anche le azioni che abbiamo fatto, specialmente sulla sinistra con Polino e Maccarella, dove siamo entrati bene in alcune situazioni. Nel finale di tempo abbiamo avuto anche un'azione a destra dove con una palla messa in mezzo benissimo, dove avevamo anche la superata numerica là e siamo stati neanche bravi là. In secondo tempo invece siamo entrati ancora più decisi, con Gommi subito che è entrato bene in partita. In secondo tempo è entrato bene, abbiamo avuto una grande occasione, abbiamo avuto due diciamo. Abbiamo avuto due grandi occasioni dove dobbiamo, dobbiamo e dobbiamo essere più cattivi. Quando c'è queste partite qua, se ti capi una palla devi cercare di sfruttarla. Una palla in area di rigore, dobbiamo essere cattivi per cercare di sfruttarla. Poi guarda caso, nell'occasione che potevamo passare il vantaggio o potevamo fare un'occasione importante con Basanisi che è partito in quella espulsione di Robosco con due uomini contro l'uno. Giustamente il ragazzo è arrivato stanco per una messa in mezzo e poi da là c'è stata l'espulsione di Robosco. Penso che in quel momento la partita la stavamo alzando anche a livello di ritmo, la stavamo alzando molto. Però poi l'espulsione, come hai detto te, ci ha portato un uomo in meno con delle situazioni che poi si fanno affrontare quelle situazioni e rischi di perderla. È brutto dirlo, però oggi a fine partita magari siamo rammaricati. Sono rammaricato perché potevamo fare meglio, perché se sblocchiamo la partita, se sblocchiamo il risultato del primo tempo magari stiamo qui a parlare di un'altra partita perché magari il Manfredonia non si difende in quel modo e deve fare la partita anche loro. Dove siamo stati bravi noi a centrocampo a non far giocare loro, dove sono molto bravi. Però ti ripeto, c'è rammarico perché non porti a casa i tre punti. Questo è rammarico perché poi, come ho detto prima, è dura, è tosta. Però l'atteggiamento della squadra mi è piaciuto sotto molti aspetti. Quello sì, mi è piaciuto, però dobbiamo essere più cinici. Più cinici perché altrimenti si rischia di finire 0-0 e si rischia di perdere la partita. Ho visto che i ragazzi hanno reclamato, però per quanto riguarda il primo tempo loro sono stati brevi a nevosirci. Perché nel primo tempo, ripeto, l'approccio è stato buono, abbiamo giocato bene, abbiamo sviluppato anche buone trame. Buone trame l'abbiamo fatta, però loro sono stati bravi a nevosirci. Oggi lo posso dire, l'albio li ha concesso perché ci sono state delle situazioni dove andavano giù. Nel momento sono stati bravi perché sono stati, secondo me, anche furbi in quel momento là a rompere il ritmo. Noi non ci dovevamo nervosire perché abbiamo preso due o tre munizioni in quel momento là, perché poi abbiamo pagato le spese da Tazio nell'ultimo con lo Bosco. Direi che la squadra caratterialmente c'è stata, perché ho visto una squadra che voleva il risultato. L'ho vista, siamo andati vicino nel cercare di superare un avversario che si difendeva abbastanza bene, non rischiava nulla. Cercava di spezzare i ritmi a noi, però ripeto, quando ti capita una o mezza occasione, in queste partite qua devi fare gol. Devi cercare di fare gol o di sfruttare la situazione. E lì non siamo stati bravi. Ma si è visto subito che dopo si cerchiamo un punto per portare a un punto positivo. No, perché poi la classifica parla chiaro, loro hanno 32 punti, oggi hanno 33, sono a 7-8 punti dalla salvezza. Fare un punto fuori casa e magari aver sofferto per 70 fine l'espulsione, magari la squadra avversaria, lo porti a casa e punto. E' normale che anche noi in quel momento là, e poi ripeto, con l'occasione loro, con un grande gesto di calemme, è stato molto bravo Sabri a naturalizzare quella palla, perché farsi di svantaggio, non so se c'è la forza più di riprenderla. Quello è per come stavamo in quel momento là. Però sono rammaricato perché fino al momento dell'espulsione ci credevo molto nel come c'è stato l'approccio al secondo tempo. Bene il primo, ma il secondo ancora di più, perché abbiamo visto Gom che è entrato in partita non tanto il primo tempo, ma il secondo tempo è entrato molto bene. Dove è iniziato a dare carta capi a loro e poi, ripeto, l'espulsione siamo passati dal momento, forse in quella azione là, siamo passati da poter passare in vantaggio e siamo rimasti in 10. Perché poi c'è stato il fallo, no? Quella palla da Canutese, non erro, ha stoppato quella palla col passaggio di Basanisi. E' stato un peccato perché anche in quell'azione là potevamo sfruttare meglio, però non posso chiedere a Basanisi dopo una forza del genere. Devo fare i complimenti a Basanisi e a Camilleri, ma i ragazzi che oggi erano in forza per scendere in campo. Lo si è visto a Basanisi che aveva... Lo devo ringraziare perché, ripeto, erano in forza. Hanno giocato, hanno fatto la partita fino al novantesimo insieme a tutti gli altri. Ripeto, sono rammaricato perché i due punti per noi erano vitali. Sono vitali e niente, dobbiamo mollare, sappiamo le difficoltà, dobbiamo essere tosti perché la situazione di classifica non è quella. Gli risultati delle altre squadre ci stanno e purtroppo è questa la ragione di oggi. No, ma infatti sono situazioni che purtroppo l'attaccante basta nulla per sbloccarsi, basta nulla per... Io mi auguro che lui in modo particolare non... credi nei propri mezzi perché se un attaccante come oggi magari, che abbia due occasioni, come hai detto del secondo tempo, magari se è un errore ti riferisce a quella palla che ha stoppato alta nel... Era una buona situazione e l'altra con la palla di ingomo in mezzo, no? È un periodo dove magari non sta riuscendo o no, non sta riuscendo a far gol. Io mi auguro che lo faccia e che gli altri siano pronti quando vengono chiamati in causa. E sotto gli occhi di tutti, la Palmese ha fatto un grande mercato, ha fatto un mercato importante a dicembre, ha preso dei giocatori importanti dove hanno dato forza a questa squadra, se non erro forse se non sbaglio, è la squadra che ha fatto più punti nel 2024, se non erro. Io l'ho vista anche all'opera con la vittoria che ha fatto a Casarano, non ero presente a vedere la partita e già da lì si vedeva una squadra che poteva ambire a questi risultati e lo sta tenendo, perché penso anche la vittoria di oggi sul campo difficile, come Fasano se non erro, i numeri parlano chiaro. È normale che noi dobbiamo guardare le squadre, ma tutte le squadre, noi non siamo all'altezza e non possiamo permetterci di guardare una squadra diversa dall'altra. Dobbiamo guardare tutte le squadre come abbiamo fatto oggi con Maffredonia, lo faremo domenica dopo al mese, se siamo bravi e dobbiamo essere bravi a fare la partita per giocarsi fino all'ultimo minuto, per cercare di portare a casa un risultato positivo, dobbiamo essere pronti in questo. La nota positiva è che i ragazzi vogliono fare la partita, vogliono fare il risultato, lo si è visto, vanno in campo e sono determinati, si è visto subito dall'inizio tutte e due le squadre, come erano determinati, ci sono stati alcuni contrasti subito, pronti e via, dove si è visto che uno e l'altro volevano fare il risultato e quello me lo porto, me lo porto perché vedo una squadra, oltre come ho detto anche in allenamento, ma vedo una squadra che oggi ha lottato con tutte le proprie forze per cercare di sbloccare il risultato e di portarlo a casa. E non mare, sono mareggiati, però ripeto, giocare non so quanti, gli uomini in una partita del genere, perché adesso diventa anche tutto difficile, anche a livello psicologico, perché giocare agli ultimi 20 minuti, dopo aver dato tanto, dopo aver dato tanto, giocare in quelle situazioni là, cercare di sperare di vincere la partita, e poi subito un po' anche la paura, ed è normale. Però ripeto, quello che ci dobbiamo portare avanti, e lo ribadisco, e lo ripeto anche ai ragazzi, sin dal mio arrivo, lo so che è tosta. L'ho detto dalla presentazione, lo ridico oggi, l'ho detto anche quando abbiamo vinto, o abbiamo pareggiato domenica scorsa, lo dico ancora oggi. Dobbiamo essere forti caratterialmente per giocarci tutte le nostre chance. Se noi ci scendiamo in campo e giochiamo, dando tutto, come abbiamo fatto oggi, oggi ai ragazzi non possono riproverare che non hanno lottato, non hanno fatto dei drammi importanti, non posso riproverarli per questo. Magari, sono amareggiato, perché siamo rimasti in quella situazione là, dove potevamo dare di più negli ultimi minuti. Però ci portiamo a casa questa voglia di lottare, di non rendersi, perché guai a pensare il contrario. Se pensiamo il contrario, è finita. Grazie. 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 Grazie.